La delibera, le delibere, gli atti amministrativi della regione riguardano la valorizzazione del patrimonio regionale. La vendita è un atto successivo, finale a una serie di procedimenti e provvedimenti che mettono in risalto la valorizzazione dei beni, quelli regionali, per poter renderli fruibili per la collettività. In che modo? Innanzitutto interloquento con gli enti locali dove i beni sono allocati e questo vale tanto per dirne qualcuno, per citare qualcuno, l'ex gil di Chieti, dove l'università vi ha installato un bellissimo museo, vale per l'ex gil dell'Aquila che è stato dato al Science Institute del Gran Sasso o anche a quello di Teramo che vi ha fatto la casa dello sport. Altrettanto faremo o farà la regione per tutti i beni pubblici per poterne valorizzare al massimo la loro utilizzazione. Tutta una serie di proprietà che non può restare, come dire, abbandonata e in taluni casi oggetto anche di occupazione illegittima. Allora, quando si fa un piano di valorizzazione, la legge, la 112 che non riguarda solo la regione Abruzzo ma riguarda tutti gli enti locali, sono tenuti a redigere un conto di quello che è il valore del proprio patrimonio. E per fare un valore va anche scritto quanto valgono. Quindi il patrimonio dell'ex cofa o dell'ex fea hanno un loro valore intrinseco. Che cosa accade? Tanto per restare nella città di Pescara, ex cofa? Non c'è assolutamente una vendita perché nella stessa delibera c'è scritto che la procedura anche di valorizzazione è sospesa poiché c'è una interlocuzione con il comune di Pescara che deve risolvere alcuni problemi urbanistici rispetto all'insediamento che bisogna fare. Ex fea? Ex fea c'è scritto nella stessa delibera che è in atto un avviso pubblico. Mercoledì 20, credo, il servizio patrimonio della regione Abruzzo procederà alla gara pubblica con il soggetto che è rimasto, è una associazione di Reggio Emilia, per la valorizzazione di quel bene ai fini turistici, culturali e quant'altro. Quindi si tratta di valorizzare i beni e poi alla fine quando ciò non è possibile anche la possibilità di vendere. Ma certamente né cosa, né cofa, né ex fea sono nella disponibilità di una alienazione a chi che sia.